Un congresso atteso arriva per quanto mi riguarda anche con un po' di ritardo, perché avrei immaginato un congresso da tenersi immediatamente dopo l'elezione di febbraio 2013, ma comunque l'importante è che sia arrivato, perché questo congresso dovrà sancire delle cose nuove, dovrà riguardare il futuro dell'Udc se esisterà in forma uguale a oggi e comunque dovrà stabilire una linea politica, che a quanto è dato già ipotizzare credo che si uscirà da questa posizione di centro autonomo per approdare in un'Italia ormai bipolare dall'uno o dall'altra parte, quindi in questo senso ci sarà la novità di questo congresso e quindi andiamo a parteciparvi anche con l'idea di essere propositivi, cercheremo di preparare una mozione per dire la nostra, con tutta la rappresentanza casertana, ma con tutti quelli che vorranno poi condividere l'idea che noi proponiamo.